Alle 18.30 dell'8 settembre del 1943, ai microfoni di Radio Algeri, il generale Eich Eisenhower, precedendo di qualche minuto il generale Pietro Badoglio, comunicò la fine delle ostilità belliche, abbandonando a se stesso un popolo sul quale ricadde la vergogna della fuga dei reali e del citato capo del governo, consentendo ai tedeschi di attuare la terrificante operazione Axe e legittimando la dichiarazione di Renzo De Felice. Fu il giorno della morte della patria, Mattarella, e non il giorno del riscatto, come lei pretende di sostenere. L'armistizio era stato firmato già il 3 settembre, segretamente accassibile, e le sue clausole furono definite da Eisenhower The Crooked Deal, ovvero l'affare sporco. Le condizioni imposte ci furono a dir poco umilianti, a partire dal diritto a sé avvocato dal comandante in capo delle forze alleate, di disporre il disarmo, la smobilitazione, la smilitarizzazione e di impartire ordini di carattere politico e finanziario. Le clausole, infine, sarebbero state rese pubbliche solo previo consenso del comandante in campo alleato. Si traduce semplicemente nell'evidente cambiamento italiano di campo e di padrone. Da quel 43, 80 anni di menzogne, fino alla rivoluzione antropologica che contrabbandate per rivoluzione industriale. Da quel 43, le stragi di Stato sulle quali questo governo che lei, Mattarella, ha esautorato e delegittimato vale meno di una compagnia teatrale. Segreto il contenuto del Trattato di Cassibile, del Trattato di Parigi, del Bilateral Infrastructure Agreement, dell'assassinio di Enrico Mattei e poi di Aldo Moro, delle stragi eterodirette che hanno insanguinato l'Italia, in violazione della Costituzione italiana di cui lei è garante ad intermittenza. E ancora, segreti militari, anche di carattere sanitario, sottratti al diritto alla verità spettante alla pubblica opinione e segreti che sfuggono volutamente al controllo parlamentare e agli approfondimenti giudiziari. E dovremmo celebrare l'8 settembre mentre versiamo nel caos sociale ed economico e nello sputtanamento del ceto politico capeggiato da una parodia di anacronistica suffragetta? E dovremmo parlare di onore dell'Italia e di riscatto dell'Italia? Glielo chiedo ancora una volta, Battarella. Cos'è per lei l'onore di un paese o l'onore di un popolo? Camminare mano nella mano di Baris Paor, il negazionista degli oltre 2000 infoibati? Ovviamente porrò la stessa domanda al procuratore della Repubblica di Biella, per il quale avrei offeso l'onore di istituzioni latitanti e screditate.